Non è detto che i giovani non possono essere guidati anche da un insegnante, un pastore, un predicatore. Io non so cosa hanno già deciso, cosa è stato scelto, non sono stato informato. Può darsi che il relatore possa essere invece una persona matura, non lo so. Però la riunione è gestita dai giovani e dal momento che per il meridione hanno deciso che si svolga nella nostra Chiesa, voglio raccomandare che nessuno manchi dei giovani e in modo particolare nessuno manchi del coro, nessuno. Musica e coro, onorate il Signore, onoriamo il Signore, onoriamo tutti i giovani che vengono e tutti i fedeli che vengono e che saranno in questa Chiesa. Quindi datevi da fare, pregate per questo, preghiamo per questo e siate tutti presenti. Non c'è nel coro chi è più grande e chi è più piccolo. L'intero coro dovete essere tutti presenti. Va bene? Non voglio osservazioni e obiezioni su questo perché so quel che dico. E addio la gloria, alleluia. Come non è detto che la riunione gestita dai giovani non significa che ci sia l'introduzione del pastore, anzi è doveroso l'introduzione, il saluto, il benvenuto da parte del pastore. Questo si fa a Gela, si fa ovunque ed è giusto che sia così. E quindi rispetto, onore, secondo l'insegnamento che il Signore ci dà. Pregate, datevi da fare e teniamo conto di questa giornata perché sia una bella giornata per i nostri giovani, per tutti i giovani che verranno, ma una bella giornata anche perché stando seduto semplicemente gode. Addio la gloria. Alleluia. Andiamo alla parola. Questa sera non so cosa il Signore ci vorrà dire. C'è semplicemente davanti a me dei versetti della parola di Dio, soprattutto quasi tratti dall'Epistola di San Paolo ai Romani, ma soltanto qualche versetto un po' qua, un po' là. forse non sarà tanto una predicazione stasera, quando piuttosto qualche consiglio, qualche parola di insegnamento, di consiglio, che spero venga veramente da parte di Dio. Alleluia. Mi chiedo ancora una volta ad alzarmi per rivolgere un pensiero al Signore. Dio nostro e Padre, sai che io confido in Te. e quando tu non metti davanti a me qualcosa di speciale, ancora di più, Signore, sento il peso, la responsabilità, il dovere di sottopormi alla guida all'unzione dello Spirito Santo. e questa sera te lo chiedo in modo speciale, Spirito Santo, intervieni sulla mia vita, intervieni anche su tutti quanti i fedeli qui presenti e su tutti coloro che ascoltano, perché possiamo essere veramente da Te benedetti, istruiti, incoraggiati, esortati, come Tu vuoi, oh Dio. Concedici grazie a Padre, ti supplico, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Voglio leggere il primo versetto. Nell'Evancello di Rom... come dicevo, nell'Epistola di San Paolo ai Romani, capitolo 1, il versetto 16. Romani 1,16. Infatti, fratelli, io non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Lo rileggo. Io non mi vergogno del Vangelo, poiché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Io non mi vergogno. Parole pronunciate dall'Apostolo Paolo. perché pronuncia una frase del genere? Probabilmente, anzi sicuramente, doveva sapere, conoscere, era conoscenza magari di altri, di qualcuno, di tanti, che pur avendo conosciuto l'Evangelo, provavano vergogna a palesarsi, a dimostrarsi come seguaci di Cristo, potevano avere le loro motivazioni e potevano essere motivazioni valide o semplicemente anche perché preferivano ancora portare l'abito vecchio, l'abito comune a tutti per non essere notati, per non distinguersi. All'Apostolo non provava vergogna e c'erano delle buone ragioni. ha conosciuto la persecuzione, la fame, la stanchezza, il pericolo. Lo vediamo nel corso dei versetti che citerò. Ma lui dal momento che ha incontrato, anzi è stato incontrato dal Signore Gesù Cristo da quel momento non ha avuto vergogna del Vangelo. E perché? Perché il Vangelo è potenza e non è una potenza qualsiasi. Non è una potenza che si manifesta una potenza guerresca. una potenza che fa soltanto capire la superiorità. No! È una potenza che salva. Una potenza che ti libera. È una potenza che ti proietta l'eternità con Dio. Gloria al Signore. C'è qua dentro qualcuno che si vergogna del Vangelo? Diceva fratello vuoi che io mi manifesto ti alzo la mano per dire sì io mi vergogno? E io non ti chiedo alza la tua mano se ti vergogni. No, se ti vergogni come fai ad alzare la tua mano? se invece chiedo quanti sono qua dentro coloro che non hanno vergogna di palesarsi come cristiani che seguono il Vangelo allora questi chiedono di alzare la mano. Gloria a Dio. forse qualcuno per timidezza non ha alzato ma tanti tutti quasi avete alzato. Io non mi vergogno del Vangelo. Ringrazio Dio sapete io sono tra coloro che non si vergognano e non da adesso ma da quando il Signore mi ha chiamato ero ragazzo e da subito non ho avuto vergogna. Erano tempi diversi tempi che l'Evangelico poteva essere visto come una pecora nera poteva essere visto in malo modo ma in me si era verificato qualcosa di così importante che mi mi faceva sentire onorato di essere stato salvato trovato da Gesù chiamato da Gesù salvato da Gesù Cristo e ho sentito la potenza di Dio nella mia vita come potevo vergognarmi se gli altri potevano anche non capirmi poco mi interessava c'erano coloro che mi capivano ringrazio Dio per loro ma anche se qualcuno non capiva non mi importava ho trovato Gesù mi ha cercato mi ha trovato ho scoperto la fede ho scoperto Gesù Cristo come vergognarsi di Gesù alleluia gloria di voglio precisare fratelli ed è una precisione che in varie occasioni faccio conoscere l'Evancelo non intento dire sapere a livello intellettivo ciò che dice l'Evancelo o la Sacra Bibbia intera conoscere la parola di Dio è un bene un bene infinito ma se soltanto ci limitiamo a conoscere l'Evancelo il contenuto del Vangelo il contenuto dei quattro Evangeli il contenuto dei libri della Bibbia Antica e Nuovo Testamento e non conosciamo Gesù Cristo l'autore della Bibbia perché uomini di Dio hanno scritto sotto la guida dell'ispirazione dello Spirito Santo la Bibbia è la parola di Dio l'Evangelo è la parola di Gesù Cristo la parola della salvezza la parola che ci parla di Dio che si è fatto uomo e ha dato la sua vita per salvare noi gloria al Signore non limitatevi a conoscere è importante conoscere la parola di Dio proprio perché è parola di Dio non è come studiare la divina commedia inizialmente chiamata commedia poi l'hanno voluta divinizzare e l'hanno chiamata divina ma Dante effettivamente non l'aveva chiamata divina commedia soltanto la commedia va bene ma parte questi particolari è importante conoscere la storia ma non cambia la tua vita è importante conoscere tutto quello che puoi conoscere ti può aiutare nella tua formazione è importante conoscere la Bibbia ma non ti limitare a trattarlo a vederlo a leggerlo meditarlo come se fosse un libro di storia anche se racconta la storia non è una religione che devi imparare quali sono le pratiche di questa religione no la Bibbia è parola pronunciata da Dio resa viva se tu la leggi con attenzione la mediti con attenzione lo Spirito Santo te la rende presente non è la parola di duemila anni fa è la parola che adesso può arrivare al tuo cuore la parola che ti parla non ti dà solo conoscenza ma ti parla è Gesù che sta davanti a te e se sei un credente dentro di te non ti vergognare del Vangelo ma sii fiero se nella tua vita ci deve essere un motivo di orgoglio qualcosa che ti rende orgoglioso puoi essere orgoglioso fratello sorella cara soltanto di essere uno che conosce il Vangelo e predica l'Evangelo e annuncia l'Evangelo e vive secondo l'Evangelo amén gloria al Signore l'Evangelo ti porta alla conoscenza di Dio quindi alla salvezza mediante la fede l'Evangelo ti parla di vita eterna Romani al capitolo 6 il versetto 23 dice il salario del peccato è la morte ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore ecco vita eterna potremmo dire con Gesù tu acquisti ricchezza tu acquisti poteri acquisti onori e puoi avere tutto quello che il tuo cuore desidera oggi purtroppo devo dire purtroppo ci sono predicatori nel mondo che preferiscono predicare appoggiandosi certamente anche su delle verità bibliche ma esaltando molto di più alcune verità bibliche e quasi nascondendone altre con Gesù la tua vita prospererà le tue ricchezze aumenteranno con Gesù non avrai problemi nella tua vita non conoscerai la malattia il covid non ti potrà far niente a chi non conviene accettare queste cose se con Gesù divento ricco se con Gesù non ho manco bisogno di andare a lavorare perché il Signore può moltiplicare il pane se lo ha fatto con due pani e cinque pesci e ha dato da mangiare a cinquemila persone allora non ho manco motivo di andare a lavorare questo è l'Evangelo molto comodo un Evangelo comodo un Evangelo che attira le folle e l'Evangelo della moltiplicazione dei pani ma dimenticano chi ama soltanto vedere le folle piuttosto che vedere anime consacrate al Signore è bello vedere le folle ma è molto più bello vedere anime consacrate al Signore devoti a Cristo alleluia c'è l'Evangelo di Gesù che dice chi ama padre madre più di me non è degno di me c'è l'Evangelo di Gesù che dice se vuoi seguire prendi la tua croce e seguimi c'è l'Evangelo di Gesù che dice ama i tuoi nemici fai del bene a tutti fai del bene a chi ti fa del male predicare questo Evangelo che io predico e lo predico con convinzione lasciatemi dire che non è la parte del Evangelo che piace a tutti è la parte del Evangelo che a tanti non piace l'Evangelo che ti dice tu non hai niente a che vedere col mondo perché sei morto per il mondo non imitare il mondo vivi una vita nuova il tuo corpo è il tempio vivente di Dio onora Dio col tuo corpo questo è l'Evangelo che non piace a tutti tranne a coloro che veramente hanno permesso al Signore di entrare nella nostra vita di essere il padrone della nostra vita hanno capito che Gesù è il Signore comprendiamo il significato di Signore alcuni e spero che non ce ne siano tra i presenti e se c'è qualcuno ricevi questa parola e ravvediti perché per alcuni Gesù è il medico il guaritore Gesù è il liberatore il salvatore è quello che ho detto prima ma non è quello che ti dice per amore mio hai anche da soffrire gloria al Signore alleluia sentiamo l'Apostolo Paolo cari miei perché debbo allora seguire il Signore con tanta passione qual è la motivazione che mi fa essere così deciso non solo di non vergognarmi ma di andare avanti basta citarne una ma stasera ne possiamo vedere più di una vi pare poco che il Signore ci assicura la vita eterna vi pare cosa da poco comprendiamo comprendiamo che cos'è la vita eterna da vivere con il Signore tutti siamo consapevoli di non essere eterni con questo corpo e anche a far finta di non capire a far finta di non credere quando siamo ancora ragazzi adolescenti giovani anche maturi ma ancora nel vigore delle forze sì abbiamo assistito a dei funerali sappiamo che la morte è per tutti ma quasi quasi a me non mi riguarda quasi quasi non è un problema mio vivo come se non esistesse la morte vivo come se è meno da fare in questa vita come se dovessi io restare per sempre per l'eternità in questa terra con questo corpo però poi vediamo che questo corpo si va consumando piano piano avvengono gli acciacchi i dolori le ossa i muscoli si va invecchiando vogliamo ancora non crederci che il nostro tempo qui è misurato è limitato per forza dobbiamo crederci per forza ma c'è qualche altra cosa che tanti vogliono evitare di sapere o non credere che succede dopo la morte no io non credo in niente alla fine chissà ma quando finito sotto terra finisce tutto e allora meglio me la godo vivo come voglio tanto Dio ma dov'è Dio noi proveniamo dalla scimmia proveniamo eh povera scimmione credere che provieni dalla scimmia o che provieni da un'evoluzione che è partita dal nulla e si è evoluto in tante varie forme fino ad arrivare all'uomo sapiens e poi fino all'uomo attuale era più sapiente forse l'uomo chiamiamolo primitivo l'uomo dei primi tempi piuttosto di quello di oggi ma che stai dicendo che fesseria sapete io ci rifletto molto su questo il male la cattiveria è entrata con il peccato il peccato è stato alla rovina e ha prodotto non solo il male ma anche la morte l'uomo non è una persona come gli altri esseri viventi gli altri esseri viventi continuano a vivere come hanno vissuto da sempre da quando esistono l'uomo invece si è evoluto non sulla questione fisica ma veramente ha un intelletto una capacità un'intelligenza una sapienza che lo ha portato a costruire quello che ha costruito sul piano creativo sul piano della scienza sul piano della tecnologia sul piano sociale su tutto quello che volete è arrivato a volare a toccare non solo solcare i cieli o i mari i mari molto da prima ma addirittura raggiungere la luna si possono mandare adesso sonde per arrivare su Marte no ma è arrivata tanto potrei essere convinto soltanto da una cosa dire ma veramente l'uomo di oggi è molto più abile più assennato dell'uomo di altre epoche basterebbe che mi dessero la dimostrazione che non ci fossero guerre che non ci fosse odio che ci fosse eguaglianza che ci fosse amore tra tutti che non ci fossero popoli poverissimi che muoiono di fame e popoli invece che stanno bene che non ci fossero pochi che possiedono il mondo intero e molti che invece devono faticare per andare avanti ma la cosa peggiore si ammazzavano prima in gruppi si guerreggiavano con la spada oggi si guerreggia toccando un bussante per ammazzare in un solo colpo migliaia e decine di migliaia o centinaia di migliaia bombe atomiche guerre ma sono finite le guerre l'uomo così è diventato così esperto così intelligente così che ancora ancora porta avanti le guerre porta avanti l'odio ha una capacità che non hanno gli altri esseri viventi gli animali gli animali si muovono in quello che è il loro DNA l'uomo invece va oltre perché perché Dio gli ha dato una capacità superiore lo ha fatto a sua immagine gloria al Signore il peccato lo ha rovinato sapete qual è il peccato? la superbia voler essere come Dio volersi paragonare a Dio togliere di mezzo Dio sostituendosi e questo è stata la rovina ed è la rovina perché quello che è conosciuto come peccato di Adamo ed Eva è il peccato di ogni uomo che ancora rifiuta di credere in Dio e di affidarsi a Dio l'uomo senza Dio con la sapienza che ha ricevuto fa del male si fa del male e il male non poteva che farlo finire alla morte la morte è la conclusione del male che l'uomo si fa gloria al Signore ma in Gesù ci è assicurata tutti coloro che credono che Gesù Cristo è il Salvatore lo crediamo che Gesù è il Salvatore? Gesù mi ha salvato puoi dire Gesù mi ha salvato? dillo 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 vorrei sentire un'unica voce Gesù mi ha salvato gloria al Signore alleluia e Gesù è il mio Signore se Gesù è il tuo Salvatore devi anche sapere Gesù è il tuo Signore alleluia e se tu essere Signore significa padrone padrone riesci a no capire scusate ad accettare che Gesù è il tuo padrone voglio essere molto nudo nel parlare proprio così perché si ci piace dire Gesù è il Signore per dire Gesù è il Grande ma voler capire che Gesù è il padrone della mia vita alleluia non si usa più questo termine perché se c'è il padrone ci sono i servi e l'umanità ci ha dato cattivi esempi di padroni e servi che hanno tenuto schiavi Gesù non è un padrone tiranno questo è bello Gesù non è un padrone tiranno lui non ti schiavizza lui ti ha reso libero e soltanto se lui ti ha reso libero tu puoi dire di essere un uomo veramente libero cosa voglio dirti dipendi da qualcuno o da qualcosa dipendi da un vizio per farla grossa credo che nessuno qui dentro Dio la gloria forse qualcuno avrà fatto l'esperienza di stata superata se ha accettato Gesù hai dipesso dalla droga dipendi dalla droga dipendi da qualunque altro tipo di vizio sei uno schiavo del tuo vizio uno schiavo del tuo peccato non puoi fare almeno di rubare poco assai che sia non puoi fare almeno di comportarti male ma io non vorrei trattare male gli altri però è istintivo sei schiavo schiavo di un padrone che è tiranno ma si appartiene a Cristo e hai sperimentato la salvezza perché l'Evangelo è la salvezza mediante Gesù Cristo per coloro che credono in Lui alleluia ma anche chi crede in Gesù ha vita eterna alleluia Gesù come Signore il padrone della tua vita se dipendi da Lui che non è un padrone tiranno ma è un padrone protettivo è un padrone che ama è un padrone che vuole il tuo bene alleluia un padrone pensa che mantiene un rapporto con te non da padrone io non vi chiamo servi perché non vi tratto da servi ma vi chiamo amici fratello sorella hai avuto e hai degli amici e ti è capitato a me sì probabilmente anche a te di essere stato maltrattato di essere stato anche tradito dai tuoi migliori dal tuo migliore amico dalla tua migliore amica non vi dico è vero perché so che è così so che è così i migliori amici possibilmente sono coloro che ci hanno fatto del male sono coloro che ci hanno tradito ma il Signore ci dice di amarli attenzione di perdonare ed amare alleluia ma Gesù non è l'amico che tradisce non è l'amico che lascia l'amico che ti lascia perdere visto che tu non sei stato così preciso con lui ti lascia perdere no è un amico che ti ama pur essendo padrone si comporta con te d'amico vero sincero leale gli puoi avere fiducia cieca come si dice fiducia cieca perché lui non solo non ti tradisce ma perfino davanti alle tue debolezze davanti ai momenti delle tue così un po' quando sei un po' fiacco ecco l'amico ti rialza su su tirati su cammina con me è l'amico che ti aiuta è l'amico che calma le tempeste gloria al Signore l'amico che ti conduce avanti gloria al Signor Gesù alleluia io credo che Gesù mi ha salvato si prende cura di me non dà come uno che non ha la capacità la possibilità lui è il padrone di tutto non solo e io devo capire che lui è padrone per dire che lui può ha tutto in suo potere la vita e la morte nel suo potere e per me e per te che credi ha stabilito la vita eterna alla sua presenza e Gesù ha detto ai suoi discepoli io vado a preparare il luogo quando tutto sarà pronto tornerò per accogliere tutti coloro che fanno la volontà del Padre mio e portarli presso di me perché dove abito io voglio che abitano tutti coloro che fanno la volontà del Padre mio gloria al Signore alleluia benedetto Gesù alleluia Gesù ci dà vita eterna viviamo soltanto in attesa della vita eterna sì certo ma nel frattempo strada facendo la presenza di Dio nella nostra vita la presenza del Signore è reale perché il Signore dice io vi do i doni e voi avrete vittoria sul male chiesa hai ricevuto doni spirituali ce ne sono di più sempre di più alleluia voglio fare delle letture e sarò breve nei commenti è arrivato però permettetemi voglio Romani 8 verso 31 che diremo dunque se Dio è per noi chi sarà contro di noi egli che non ha risparmiato il proprio figlio ma lo ha dato per tutti noi come non ci donerà ogni cosa insieme con lui chi accuserà gli eletti di Dio Dio e giustifica chi li condannerà Cristo Gesù è morto è risuscitato sta alla destra di Dio e intercede per noi chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo che parola forte chi ci separerà dall'amore di Cristo dubiti fratello mio no non dubitare lui non ti vuole mai lasciare sii tu a non lasciare lui ti raccomando gloria al Signore alleluia forse sarà la tribolazione l'angoscia la persecuzione la fame la nudità il pericolo la spada poi più avanti al versetto 38 dice io sono infatti persuaso l'apostolo Paolo dice sono persuaso che né morte né vita né angeli né principati né presente né avvenire né potenze né altezza né profondità né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio mediante Cristo Gesù il nostro Signore se siete d'accordo io voglio sentire un vero amen all'unisono gloria a Dio alleluia chi ci separerà dall'amore di Dio quindi io vivo in vista dell'eternità ma intanto Gesù è con me e lui ha dato a me a voi i doni dello Spirito Santo che ci rendono forti e anche se avremo tribolazione tutto quello che può succedere tutto quello non è vero che non succeda attenzione quello che dicevo prima io non sono uno che predica che tutto ti andrà sempre bene no ma la parola dice anche se ti succederanno tutte le cose impensabili Dio è con te e tu sarai vittorioso gloria al Signore alleluia e se deve dare la vita per Gesù amèn gloria a Dio alleluia un ultimo brano saremo conformi a Cristo cari miei perché noi siamo il Tempio dello Spirito Santo e lo saremo ancora quando saremo alla sua presenza al capitolo dodici leggiamo dal primo io vi esorto dunque fratelli sentiamo questa raccomandazione dell'Apostolo vi esorto per la misericordia di Dio accettiamo questa esortazione scritta dall'Apostolo ma viene direttamente da Dio a noi ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente santo e gradito a Dio questo è il vostro culto spirituale se il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo allora con la nostra vita con il nostro essere dobbiamo onorare il Signore diventa il culto dalla mattina alla sera dalla sera alla mattina questo non vuol dire che io sto inginocchiato 24 ore su 24 ore sempre ma vuol dire che con la mia vita durante il lavoro durante gli argomenti i ragionamenti gli incontri sempre la mia vita è un culto a Dio onore a Dio quando canto quando prego quando parlo quando lavoro quando sto davanti al pericolo quando sto davanti al bene quando gioisco la mia vita io ho un culto per il Signore ma non solo la mia ma anche la tua fratello e poi attenzione attenzione a queste parole non conformatevi alla mentalità di questo secolo ma trasformatevi rinnovando la nostra mente per poter discernere la volontà di Dio ciò che è buono al Signore ciò che è gradito è perfetto cioè non vi conformate siate rinnovati ogni giorno per capire discernere ciò che a Dio piace che voi fate e ciò che a Dio non piace mi voglio permettere di fare un avvertimento la parola ci dice che noi non ci dobbiamo conformare al mondo alle usanze del mondo alle tradizioni del mondo eh a nessuna cosa del mondo perché noi non siamo figli di questo mondo siamo figli di Dio rigenerati mediante il sangue di Cristo Gesù alleluia allora se devo piacere a Dio posso conformarmi al mondo quando dice quella parola non vi conformate al mondo arriva il Natale cristiano dicono ma di cristianesimo non c'è niente l'albero in molte famiglie cristiane lo fanno tutti lo fanno anche ormai tante chiese evangeliche ma cosa sta a significare sapete quando il popolo antico il popolo ebraico si contaminavano cercavano di fare le stesse feste si uniformavano alle feste dei pagani non è che loro cambiavano fede solo che disubbidivano non è che dicevano non siamo più o non crediamo più nel nostro Dio no loro continuavano a credere semplicemente poi si conformavano a quello che facevano i pagani e il Signore si arrabbiava si dispiaceva ed erano guai non diamo al Signore motivo di dispiacere fratelli miei non ci conformiamo al mondo per nessuna cosa dice ma altri fratelli lo fanno che Dio li benedica andiamo al significato alle origini dei significati dice ma tanto ormai si fa non perché l'albero simboleggiava qualcosa di diabolico e quindi ormai lo si fa così ma alle origini c'è il diavolo non facciamo quelle cose e poco mi interessa se qualcuno mi dice ah il pastore è antico il pastore è per questo e magari si rifiuta di venire in chiesa vuoi essere seguace di Cristo conforme a Cristo o ti devi per forza fare un po' il mondo un po' Cristo ma non è ho citato l'albero per dire solo una cosa e non di lungo ma in tutto e per tutto non dobbiamo imitare il mondo gloria al Signore anche nei nostri rapporti e nostre amicizie i nostri amici sono i fratelli e le sorelle non che non dobbiamo per carità non vi dico siamo nemici del mondo no ma dobbiamo predicare il mondo e portarli a Cristo gloria al Signore alleluia alleluia siate lieti nella speranza forti nella tribolazione perseveranti nella preghiera solleciti per le necessità dei fratelli premurosi nell'ospitalità ecco quali sono le cose che dobbiamo perseguire benedite coloro che vi perseguitano benedite non maledite rallegratevi con quelli che sono nella gioia piancete con quelli che sono nel pianto abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri medesimi sentimenti no ognuno la pensa in modo proprio fratelli nel popolo di Dio c'è unità di intenti unità nel volere unità perché uniti in Cristo Gesù alleluia alleluia non aspirate a cose troppo alte piegatevi invece a quelle umili non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi non rendete a nessuno male per male cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini se possibile per quanto questo dipende da voi vivete in pace con tutti importante tu devi essere un ricercatore di pace ma la colpa non è mia è stato il fratello la sorella è stato il mio parente è stato il mio ma tu sei un ricercatore di pace e tu fai tutto il possibile tutto il possibile per vivere in pace per quello che dipende da te non deve mai non solo tutti i tentativi se poi dopo che fai tutti i tentativi e l'altro non ne vuole sapere non è più un problema tuo è un problema dell'altro non tuo ma per te non deve mancare mai sempre pronto con le braccia aperte alla prima opportunità ci sono in pace con tutti qualcuno mi dice ma fratello io ci provo ci provo fratello sorella se veramente tu ci provi con tutto l'amore di Dio non ci provi per riprendere i discorsi e dire ma sai però io avevo ragione però hai sbagliato tu non si fa così ti voglio bene ti amo se ho sbagliato io piuttosto perdonami meglio caricarti il torto piuttosto che voler cercare la pace facendoti ragione se poi ripeto dopo che tu ce l'hai messo tutta ed è l'altro che non vuole saperne perché tu sei un figlio di Dio magari ti guarda proprio e non vuole saperne stai in pace con Dio stai in pace ma non deve mancare per te ripeto gloria al Signore alleluia vogliamo vivere un cristianesimo autentico sì o no non ci vergogniamo di Cristo non ci vergogniamo di vivere una vita cristiana e allora cari miei se la viviamo interamente nelle difficoltà nei momenti buoni nei momenti bene o buoni se la viviamo interamente allora siamo fieri di essere seguaci di Cristo fieri orgogliosi di essere cristiani ma se la vivi in maniera tiepida io ti consiglio se vivi un cristianesimo tiepido non vale la pena che vivi da cristiano perché cristiano al 50% non esiste o al 100% manco al 90% o al 100% o niente cosa ci dice la scrittura i freddi non valgono i tiepidi cosa dice il Signore per i tiepidi coloro che sono né caldi né freddi io li vomiterò dalla mia bocca ti vuoi accontentare di essere tiepido ma quando posso leggo quando posso vado in chiesa quando posso e poi visto che i fratelli non mi trattano bene visto che non sono calcolato visto che allora mi faccio i fatti miei vivo vado in chiesa però non più di tanto e il Signore dice ricordati che io sono il tuo Signore ti ho salvato sono il tuo Signore sono pronto ad aiutarti ma rimettiti in sesto svegliati tu che tu dormi risorgi ed io ti darò la vita ma se resti tiepido ti vomiterò fuori dalla mia bocca l'inferno è preparato per tutti gli increduli ma anche per quelli che si sono dichiarati cristiani e non hanno vissuto il cristianesimo come il Signore vuole non l'hanno vissuto con vera fede l'hanno vissuta nel torpore o si sono semplicemente inorgogliti si sono semplicemente dati alla superbia e il Signore dice io non ti ho mai conosciuto questo non è il mio evangelo non ti ho mai conosciuto via da me vogliamo alzatevi per un istante e poi diamo spazio al nostro gruppo Signore non vogliamo essere cristiani tiepidi non vogliamo essere freddi non vogliamo essere cristiani ma vogliamo essere cristiani da tutto il bene che ci può essere proposto e non pronti ad affrontare tutte le difficoltà che possiamo incontrare vogliamo essere cristiani al cento per cento amén gloria a Dio e vogliamo Signore non conformarci al mondo e alla mentalità di questo mondo ma vogliamo ricevere sapienza luce divina per trasmettere luce a questo mondo di tenebre per essere di esempio non persone che si conformano ma persone che si distinguono per portare avanti il puro evangelo di Cristo a te tutta la gloria Signore e a noi la tua benedizione nel nome di Gesù amén accomodatevi allora fratelli sorella venite avanti attendiamo ancora non credo che sarà lunghissimo no è quindi ok gloria a Gesù alleluia viene avanti sorella sì io una bella squadra gloria al Signore e non siete tutti e beh sempre succede che qualcuno può mancare alleluia allora la sorella tu sei la figlia aspetta con le mascherine è un problema gloria a Gesù pace a tutti la mamma mi ha detto fermati con noi in obbedienza sì sì in obbedienza io mi fermo sì sì pastore rimani qua vicino a noi così allora siamo onorati noi di essere qui questa sera e ora faremo una breve due settimane fa se vi ricordate non so chi era presente siamo venuti e quindi il pastore mi ha dato modo di accennare qualcosa e quindi stasera faremo una breve presentazione di quello che è l'associazione e poi dirò qualcosa io alla fine e se ne occuperà Beatrice e inizierà quindi lei pace a tutti mi chiamo Beatrice e siamo qui per presentarvi la nostra associazione One Day at Time l'associazione nasce dalla dipartita prematura di un nostro carissimo amico Giovanni Lomagno un ragazzo di 16 anni pieno di vita vivace solare che amava la vita aveva molte passioni e assolutamente e molti amici e noi ne siamo la testimonianza purtroppo Giovanni è andato via questo febbraio per un brutto male Giovanni era una persona piena di passioni infatti aveva la passione per la musica suonava tantissimi strumenti aveva la passione per lo sport in generale in particolare per il judo la sua disciplina per eccellenza diciamo che Giovanni nella sua vita è riuscito a portare il judo anche fuori dal tatami infatti il motto del judo è cadi sette volte ti rialzi otto ed è proprio quello che Giovanni ha deciso di fare nella sua vita come potete vedere dal nome noi la nostra associazione si chiama One Day at Time con il sole era un simbolo che appunto aveva Giovanni e noi giustamente come amici chiedevamo Giovanni ma cosa significa il sole per te e lui ci diceva ho scelto il sole perché il sole sorge sempre ogni mattina si alza e svolge il suo lavoro indipendentemente dal fatto che ci siano le nuvole lui ogni giorno si alza e si fa vedere da noi invece One Day at Time in italiano significa un giorno alla volta un giorno alla volta perché è proprio come ha deciso di vivere Giovanni un giorno alla volta senza mai decidere di abbattersi e di arrendersi ha deciso di lottare fino all'ultimo e noi ne siamo la testimonianza quando lui sognava il suo futuro diceva sempre voglio andare dove gli altri hanno paura di andare questo diciamo che è una delle frasi che caratterizza la vita di Giovanni in quanto Giovanni era un ragazzo pieno di energie e diciamo che anche dentro dei reparti dove lui stava per settimane a volte anche per ricoveri un po' più lunghi riusciva a portare il sorriso non solo ai suoi compagni di stanza non solo ai suoi compagni di stanza ma anche ai medici ai dottori agli infermieri e ha trasmesso loro anche la sua fede infatti se Giovanni ha deciso di non arrendersi mai è stato grazie alla sua immensa fede verso Dio in quanto una delle sue frasi più importanti è non è tempo di perdere tempo non è tempo di perdere tempo perché lui non voleva perdere tempo nella vita ha deciso di non di non perdere nemmeno un attimo e di viversi la vita a 360 gradi grazie grazie a Dio che lo ha accompagnato nel suo percorso lui non ha mai perso la sua fede e non ha reso la fede come un qualcosa di egoistico solo per lui ma nei reparti incoraggiava testimoniava il suo amore per Dio testimoniava il fatto che il dolore non lo aveva sconfitto lo aveva reso solo più forte aveva reso la sua testimonianza ancora più forte aveva dato uno scopo alla sua vita l'amore per Dio e noi ne siamo la testimonianza la madre ci racconta che negli ultimi istanti di vita Giovanni gli ha detto una frase che per noi è molto importante ciò che ci aiuta ad andare avanti come associazione mamma non perdere la fede è un ragazzo di 16 anni che negli ultimi istanti di vita ti dice mamma non perdere la fede non è una frase detta a caso poteva dire tante cose ma ha deciso di non far perdere la strada alla madre ha deciso di accompagnarla fino alla fine noi sappiamo che Giovanni è con noi perché Dio è con noi Giovanni è con Dio e Dio è con noi quindi quindi diciamo che abbiamo questa svolgiamo delle missioni infatti il nostro scopo è portare un sorriso dove purtroppo per forze maggiori un sorriso si è perso andiamo negli ospedali siamo stati al policlinico di Catania nel reparto di onco-ematologia pediatrica siamo stati nell'istituto per minori a Comiso siamo stati all'ospice di Modica contribuiamo alla ricerca per i tumori infantili i tumori rari ci vediamo ogni martedì con tutti i ragazzi parliamo ci diciamo tante esperienze ci diamo forza e coraggio per poter andare avanti con le missioni perché non è facile e quindi adesso faremo il nostro motto il saluto che sarà appunto con la frase diciamo più importante che non è tempo di perdere tempo perché sappiamo che non è tempo di perdere tempo perché Dio ci vuole con Lui e non possiamo perdere tempo nelle cose futili della vita non possiamo perderci in tutto quello che la vita ci dona dobbiamo avere sempre avanti un obiettivo e dobbiamo raggiungerlo per questo voglio spiegare solo il saluto perché questa frase non è tempo di perdere tempo non è venuta così a caso Beatrice è stata bravissima a spiegare tutto sono ragazzi e l'emozione ma lei è veramente brava gioia lei conosceva Giovanni sin dalla nascita quindi ci è cresciuta e non è facile ecco essere qui scusate allora non è tempo di perdere tempo è una frase che Giovanni qualche giorno prima della dipartita si è svegliato dicendomi mamma io questa notte non ho dormito e ho fatto un sogno nelle mattinate ma sai mamma non capivo se dormivo sembra che che sentivo una voce e dico ma cosa c'è amore cosa hai sognato cosa hai sentito ho pregato tutta la notte poi nelle mattinate io sentivo come una voce che mi parlava e io parlavo a tantissime persone e capite che io da mamma quando lui mi ha detto questo dico ok magari può essere che Dio ti ha mostrato quello che vuole fare con te a mamma magari quando il Signore ti guarirà magari ti ha mostrato quello che tu farai e che Dio si userà di te in qualsiasi modo e lui all'inizio non mi aveva detto niente e mi dice io sentivo queste parole e io le dicevo e c'erano tantissime persone davanti a me ed era questo queste erano le parole chiesa alzati chiesa alzati perché non è tempo di perdere tempo per la prima volta poi di nuovo chiesa alzati perché è tempo di avere fede e tempo di credere per la seconda volta chiesa alzati e per la terza volta lui sente di nuovo chiesa alzati perché mi voglio usare di ognuno piccoli e grandi perché non è tempo di perdere tempo ecco da dove viene il saluto dei ragazzi questa frase che lui esattamente mi ha raccontato il lunedì mattina e il giovedì pomeriggio Giovanni era già in coma quindi tre giorni prima dopo una nottata di preghiera e io vi dico la verità contenta ho detto Giovanni ma tu come ti vedevi stavi bene com'eri a mamma e lui mi dice mamma io non mi vedevo e vi dico la verità che proprio in quell'istante ho capito che il piano di Dio per mio figlio era un altro però non mi dilungo poi dopo dirò qualcos'altro perché Giulia e Flavia faranno il saluto qua ci sono i nostri piccolini pure anche loro non è tempo di perdere il tempo adesso vi faremo vedere un breve video che sarà proiettato alle nostre spalle grazie a tutti 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 Grazie a tutti